Salve a tutti e benvenuti su SissiTube Oggi sono qui per fare un book haul unboxing L'unboxing di un paccone di IBS Eccolo qui Con la pubblicità dell'amica geniale E poi ci sono vari scambi Cose arrivate da Amazon C'è veramente di tutto Iniziamo subito dal paccone di IBS Dove troviamo un DVD Che è Natale all'improvviso Non puoi riciclare la famiglia Ragazzi questo film è bellissimo Un film natalizio davvero bello 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 Ti fa sorridere, piangere, riflettere L'ho veramente amato Questo qui l'ho visto in aereo Quando sono andata a New York E quindi mi è rimasto nel cuore Ho deciso di acquistarlo La seconda cosa che troviamo qui è un libro Perché poi sono tutti libri E sto parlando della Regina delle Nevi E altri racconti di Hans Christian Andersen Questo libro è spettacolare Proprio nella sua estetica Guardate qua Una sirena che meraviglia E questo qui è un libro Che racchiude dei racconti Dalla Regina delle Nevi La sirenetta L'usignolo I vestiti nuovi dell'imperatore E non vedo l'ora di leggerli Mi sembra un libro proprio adatto all'inverno C'è la luce Ecco Comunque è bellissimo Andando avanti Un libro che volevo da un sacco di tempo Ed è Le streghe Sono tornate La ricostruzione Dei grandi processi Quattro secoli di storia Dalla parte delle streghe Lo volevo da tantissimo tempo Sono interessatissima all'argomento Qui dice Strega è il nome Che gli uomini danno Alla loro paura Del femminile Nel grande racconto dei processi La storia Di una folla ossessione Che pare non avere fine Mi interessa tantissimo Questo libro Non vedo l'ora di iniziarlo Poi ci sono altri due libri E abbiamo finito Per quanto riguarda L'unboxing di BS Uno è Un regalo da Tiffany Che mi sa molto di Natale Perché è la storia Di due storie d'amore Se non mi sbaglio In parallelo Dove due uomini Stanno comprando Un regalo Per la donna Di cui sono innamorati Però praticamente Questi pacchettini Questi due regali Verranno scambiati Quindi una donna Riceverà il regalo Dell'altra E mi piace L'idea Di questo scambio Che se non mi sbaglio Uno dei due regali Era un anello Di fidanzamento E quindi Una donna Riceverà un anello Di fidanzamento Che non gli appartiene E quindi Mi piaceva l'idea Di questo scambio Aria natalizia Ho deciso di prenderlo Era praticamente Scontatissimo E poi Il secondo È questo qui Che è Le formule Del cuore E del destino Di Joab Bloom Un treno perso Un caffè rovesciato Un incontro inatteso E se non fossero Affatto coincidenze Mi piace tantissimo L'idea che tutto È scritto Tutto è destino Anche quelle piccole cose Che ti succedono Nella vita Come rovesciare Un caffè Un treno Che perdi Siano cose Già scritte Già calcolate Dal destino Doveva succedere Per delle motivazioni E adoro Leggere di queste cose Del caso E quindi Questo è Il mio bottino IBS Ecco qui Abbiamo Tre fumetti In realtà due Perché Vi faccio vedere Il primo Questo qui È Witch E l'ho preso Al Comic Con L'ultimo Comic Con Che c'è stato A maggio E su Amazon Ho preso I seguiti Il secondo E il terzo Che meraviglia Finalmente Sono miei Li cercavo Da tantissimo Tempo Perché Non ce ne va Nessuno Praticamente Soltanto Che il secondo Mi è arrivato Con qualche pagina Un po' Sbiadita Un po' Strana E quindi Lo sto rimandando Indietro Aspetto Che mi Ritorna E poi Inizierò A leggerli Comunque Meraviglia Veramente Bellissima La serie Di Witch Poi Vi faccio Vedere L'edizione Di piccole donne Che ho comprato All'aggiunti Mamma mia Sono fiera Di questa edizione Guardate La meraviglia È in copertina Rigida Guardate Da vicino I dettagli I dettagli Di questo libro Guardate Questi fiori Guardate La costina Nove Io senza parole Guardate Dietro Come è fatto Bellissimo Poi è enorme Rispetto A un libro Normale È bellissimo Con questi fiori Bello 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 E dentro È un'edizione Illustrata Ora vi faccio vedere Qualche pagina A parte che ogni pagina Ha il titolo Con questi fiori Ed è una meraviglia Guardate Le illustrazioni Che spettacolo Cioè io che faccio La collezione Dei libri Di piccole donne Per me Questo è un gioiellino Guardate qui Che meraviglia Che meraviglia Veramente Sono fierissima Questo qui Me l'ha regalato Luca Costa 16 ore E 90 E mamma mia Bella 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 Non vedo l'ora Credo che leggerò Questa edizione Questo Natale Perché Troppo bello Poi Non ricordo Se vi ho fatto vedere Questo libro Però me l'ha ridato Mia cugina E quindi Vi faccio vedere Il segreto Di Riverview College Di Suzanne Goga Forse di qua Non c'è riflesso È appunto Un thriller Ambientato A Londra Del 1900 Mi ha detto Mia cugina Molto Molto affascinante Questo qui È dell'Aggiunti Questo qui È un libro Che abbiamo letto Per il gruppo Di lettura Se non siete ancora iscritti Al mio gruppo Di lettura Fatelo Ok? Gruppo di lettura Con SissiTube Su Facebook Lo trovate E lì farò Una live Dove parleremo Di questo libro Che è stato scelto Appunto Per il mese scorso Ed è L'amore Sempre in ritardo Di Anna Premoli Ho amato tanto Questo libro E presto Ne parleremo Insieme Poi Vi parlo Di due libri Che mi hanno mandato Due case editrici Diverse Una è la Newton Compton Con Non chiedermi mai Perché Di Lucrezia Scali Questo qui È un libro Natalizio Ma molto molto Drammatico Perché Il libro Si apre Con un incidente Stradale E quindi Secondo me È un libro Natalizio Molto forte Dove sicuramente E spero Che la protagonista Ritrovi la gioia E quella luce Della speranza Che il Natale Può dare E quindi Lo leggerò Presso L'avevo già iniziato Ho letto Qualche pagina E ho dedotto Il tutto E lo leggerò Presso E poi Il secondo Questo mi sconfi Fra tantissimo Della Dea Planeta Con No Exit È un bel mattonazzo Di Taylor Adams Guardate Tra l'altro La copertina Quanto è bella Questo è il mattonino E la copertina È bellissima Perché C'è questa neve Così Che scende Bella Molto molto Invernale Questa copertina E dice Cinque sconosciuti Bloccati Dalla neve Una sola notte Per vivere O morire È un thriller Della Dea E lo leggerò Presto così Sul canale Vi parlerò Delle mie ultime letture Molto molto presto Andiamo avanti Andiamo avanti Con un libro Che ho acquistato Subito Dopo aver visto La serie tv Hill House Su Netflix Se non avete visto La mia recensione I miei motivi Più che recensione I miei buoni Cinque motivi Per vedere questa serie tv Ve la metto qui E anche qui sotto Nell'info box Vi metto il video Così lo andate a vedere Ho comprato Dopo aver visto La serie tv Il libro L'incubo di Hill House Di Shirley Jackson Questa qui È un'edizione ad Elf Il libro è molto molto sottile Quindi lo voglio iniziare Prestissimo So che la trama È diversa Si tratta sempre Di una casa Infestata dai fantasmi Di questa famiglia Però la trama Del libro Rispetto al telefilm È diversa Il telefilm È ispirato A questo libro Ma le trame Sono diverse E quindi Siccome mi mancava La mia amata casa Di Hill House Ho deciso di acquistare Anche il libro Per leggerlo Questo qui È un regalo Di mia sorella Mariana Per il mio nomastico E sto parlando Delle nebbie Di Avalon Il ciclo di Avalon Di Marion Zimmer Bradley Questo qui È la prima parte Perché ci sarà Un'edizione integrale Divisa in due parti Questa qui È la prima parte Guardate Che edizione Meravigliosa Tra l'altro Vraimenti È bello 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 E non vedo l'ora Di leggerlo Perché parla Di Morgana Di Mago Merlino I cavalli della tavola rotonda E quindi sono Veramente curiosissima Qui dice Ai miei tempi Mi furono dati Diversi nomi Sorella Amante Sacerdotessa Maga Regina Non vedo l'ora Di leggerlo Grande Morgana Poi vi faccio vedere Tre scambi Ho scambiato tre libri Con questa ragazza Che mi ha dato La ricetta Del vero amore Di Nicolas Barreux E apprezzo molto Questo autore Devo dire Molto dolce Molto Molto Francais E quindi Appena ho visto Che scambiava Questo libro Ho detto Quasi quasi Lo leggo Anche perché Ne ho sentito Parlare Benissimo Ovviamente Una storia D'amore In pochissime Pagine Novanta Pagine Nemmeno E tra l'altro Alla fine Ci sono Tantissime Ricette Ad esempio Un piccante Risveglio Dei sensi Zuppa Di cranchio Con zenzero E coriandolo Ci sono Varie ricette Questa cosa Mi sconfinfa Poi un libro Natalizio Perché viene il Natale Che fai Non ti inizi A prendere Mille libri Natalizi Da leggere E quindi Un indimenticabile Natale D'amore Di Millie Johnson Tra l'altro Adoro questa copertina Anche dentro Guardate che bello Meraviglia Ovviamente Una storiella D'amore Dice Natale È il periodo Dell'anno In cui bisogna Essere felici Ma Eve Non ha mai amato Le feste Tutti i suoi sogni Tutti i suoi desideri E le sue illusioni Sono sempre stati Disattesi Eppure quest'anno Il destino Sembra avere in serbo Per lei Qualcosa di davvero speciale Carino Vedremo E l'ultimo libro È L'amore È un imprevisto Dice Tre mesi Cinque appuntamenti Un vero amore Di Rosie Blake Anche qui La copertina Bellissima La trama Mi ha sconfinferato Ho detto perché no Scambiamo Dice Ragazza single Cerca compagno Secondo procedimento Standard No filtri d'amore Incantesimi Gatti neri O sfere di cristallo Casella postale Numero 06660 Adoro Lo devo troppo leggere E poi Finiti gli scambi Vi faccio vedere Un acquisto Che ho fatto Alla Mondadori L'altro giorno Più di un mese fa Quando Vi feci il video Dei followers Che comandano la mia vita Se non l'avete visto Ve lo metto sempre qui sotto E sto parlando di cose preziose Di Stephen King L'ho sentito parlare benissimo Dallost Palome Quindi ho deciso di acquistarlo Anche perché Sto facendo scorta Di tutti i libri Di Stephen King Infatti mi deve anche arrivare Un mega paccone Dove ho Scambiato tre libri Di Stephen King Non vedo l'ora Di ricevere quel paccone Gaunt apre un negozio Di cose preziose Dove è possibile Acquistare Pezzi rari Curiosità autentiche Gioie Per piccoli Collezionisti Però è un negozio Un po' oscuro In peretrambile Un magazzino Dove tutto è in vendita Anche l'anima Mi sconfino Fra tantissimo Questo libro Certo mi spaventa Un po' la mole Perché è quasi mille pagine Questo libro Ottocento e qualcosa E Un King semplicemente Grandioso Una vicenda demoniaca Dal fascino irresistibile Non vedo l'ora di leggerlo Ragazzi Questo è il mio bottino Per adesso Tra l'altro Perché mi devono arrivare Altri due pacchi Però magari Farò un altro Unboxing Perché volevo Un attimino Smaltire Prima queste cose Se il video vi è piaciuto Mettete un mi piace Se siete curiosi Di acquistare Di leggere qualche libro Scrivetemelo Nei commenti E se non avete Azionato la campanella Fatelo Perché così sarete Avvisati In maniera live Subito Nel fatto che io Ho caricato un video E quindi voi Subito correte a vederlo Ok Mi raccomando Ragazzi Sostenetemi Che è molto 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 Importante E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao